È mettersi in gioco, come dire il mio caso nel momento in cui si raggiunge l'autenticità e l'unicità è ovvio che l'intento è raggiungere tante donne e mettersi in gioco vuol dire proporsi senza se, senza mai, senza vergogna perché ci vuole coraggio ma soprattutto guardare in faccia le proprie paure perché spesso quello che ci pone nella condizione di dire no, non lo faccio, non vado è solo una questione di paura, invece abbiate coraggio perché scrivere un libro è un viaggio davvero bellissimo ma il bello è anche nel presentarlo e nel viverselo a pieno. È cambiata per il fatto che tante donne adesso mi conoscono per forza di cose perché insomma arrivo a loro le donne si fidano adesso e si affidano a me quindi grazie al libro sto raggiungendo davvero tante donne. Grazie. Grazie.